ciao ben trovati vediamo la situazione di breve sul titolo unicredit siamo con candele giapponesi dai minimi di fine ottobre fino a questi massimi abbiamo poi avuto una fase di discesa con questo gap e poi una fase di lungo trading range tra area 8 e 30 e 7 e 40 è interessante fissare alcuni livelli che possono essere di swing cioè discriminanti per avere poi dei punti d'ingresso il trend di fondo in questa fase comunque rialzista perché chiaramente abbiamo un minimo più basso rispetto ai minimi successivi importanti e sono crescenti nelle ultime quattro sessioni abbiamo avuto candele ribassiste oggi una candela che chiude sui minimi della giornata e questo ci fa presupporre che potremmo assistere ancora a una discesa il livello di 7 euro e 70 sul supporto dinamico su questa trend line potrebbe essere un livello interessante anche perché è un livello che potrebbe darci anche un doppio supporto cosa intendo dire che dopo questo uptrend rialzista e la successiva discesa abbiamo avuto un nuovo tentativo di risalita con questo massimo relativo nuova discesa e qui ancora il supporto dinamico attenuto quindi abbiamo questo movimento come tentativo di ripartenza viene respinto il supporto tiene e poi candelona rialzista che rompe questo livello quindi i 7 e 80 sono un livello sicuramente 7 80 7 75 un livello sicuramente importante dove dopo il movimento sembra possa essere partito il secondo e faccio a questo livello vedrebbe sia il supporto statico quello che ha dato proprio il la prima di essere resistenza e poi è stato rotto quindi adesso dovrebbe fornire supporto coincidente quasi con con questo dinamico importantissimo ripete questo movimento di ripartenza è stato respinto nuova ripartenza e quindi pullback con livello supportivo altrettanto interessante poi vedere anche tramite fibonacci come in maniera molto molto precisa da i minimi fino ai massimi fatti 100 questo livello corrisponda precisamente con il 50 per cento di ritraccio quindi con un livello chiave la metà del movimento per cui ecco come ribadisco 7 75 7 76 secondo me è un livello interessantissimo in ottica long per andare a cercare alzista e soprattutto poi per avere uno stop loss contenuto posizionandolo in area 7 65 sotto anche alla trend line dinamica un saluto a tutti e buon trading